Le faccende giudiziarie che coinvolgono Picerno e Bitonto potrebbero far slittare l'inizio dei campionati di C e di D. L'indiscrezione avrebbe del clamoroso accertato che il destino delle due squadre ha molto a che fare con il futuro del girone meridionale e con la programmazione della Lega Pro e della Lega Nazionale di Lettanti. Il problema sarebbe meramente tecnico. Pare infatti che il processo non si svolgerà con rito abbreviato, come ipotizzato in un primo momento, ma con rito classico, insomma con un'enorme dilatazione del tempo per il mondo del calcio. L'udienza dovrebbe svolgerti tra una settimana allungando i tempi per la composizione dei gironi. Un assurdo inciampo, considerando che dalla decisione che si prenderà dipenderà anche il destino di molte squadre che sono alla porta in attesa di una probabile riammissione. Inutile sottolineare che non mancheranno neanche in questo ultimo scorcio d'estate i ricorsi e gli appelli. Ricordiamo che Picerno e Bitonto sono in attesa di giudizio dopo essere state condannate in primo grado per un caso di presunta combina risalente al 2019. Alla porta ora ci sarebbero su tutti il foggia con il caos che anche questa volta sembra classicamente servito. Intanto ad aggravare la posizione arrivano le confessioni di alcuni calciatori bitontini, tra i quali Picci, Anaclerio, De Santis, Turitto e Patierno, che avrebbero concordato in un primo momento 25.000 euro con il DG del Picerno per riceverne poi effettivamente 10. Tutto è partito dalle intercettazioni del cellulare di Picci, allargandosi poi a macchia d'olio e creando l'ormai classico caos estivo del mondo del pallone.